Sicuramente dobbiamo essere delusi, delusi perché non è stata una buona partita, è stata una brutta prestazione, penso che abbiamo fatto veramente vedere pochissimo nella nostra idea di calcio, per quello che noi ci alleniamo. Quindi da questo punto di vista sono deluso e mi prendo chiaramente la responsabilità perché non ho inciso come avrei dovuto incidere all'inizio, forse, e anche durante la partita e forse anche nella preparazione di questa partita, anche se non abbiamo avuto tutto questo tempo per prepararla, visto che abbiamo giocato sabato sera e abbiamo avuto solamente ieri per prepararla. Però non posso essere contento, non posso essere assolutamente contento. I miei calciatori non devono essere contenti, penso che oggi abbiamo fatto veramente vedere pochissimo di quello per cui noi ci alleniamo e lo Slavia è stato più bravo in tutto, nella pressione, nell'intensità, nel gestire anche il livello di partita internazionale. Sono stati più bravi, bisogna riconoscerlo. E noi dobbiamo prendere spunto da questo proprio per capire che abbiamo tantissima strada da percorrere, tantissimi miglioramenti da fare, da un punto di vista tecnico-tattico, ma anche da un punto di vista di mentalità ed essere più preparati anche nelle difficoltà di essere più stabili e affrontarle nella maniera migliore. Però ripeto, io sono il primo responsabile, il primo essere deluso, il primo che assolutamente si prende la responsabilità di questa prestazione che a me non è piaciuta assolutamente.